Oscar De Bona è stato nominato membro del Consiglio Generale degli Italiani all'estero. Si tratta della prima volta che un bellunese ricopre tale carica. De Bona è presidente dell'Associazione Bellunesi nel Mondo e rappresentante dell'UNAIE, ossia l'Unione Nazionale Associazioni Immigrati ed Emigrati. Con questa nuova nomina si proporrà di portare la voce degli associati nel nostro territorio e dei 1.200 circoli presenti nel mondo all'attenzione del direttivo nazionale del CGE. C'è stata a settembre-ottobre una prima elezione dei comitati all'estero presenti in tutti gli stati che hanno eletto una trentina di consiglieri. Rimanevano le nomine di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri che sono venute in questi giorni con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Sono una ventina di rappresentanti, sei per le associazioni come la Bellunesi nel Mondo e poi ci sono tre per le forze politiche, tre per i sindacati, tre per altre istituzioni. Nelle prossime settimane ci sarà l'insediamento di questo comitato. Un impegno di grande prestigio per Oscar De Bona, istituito nel 1989, presieduto dal Ministro degli Affari Esteri, il CGE ha tra le sue finalità istituzionali la partecipazione delle comunità italiane all'estero alle scelte della società italiana, con particolare riguardo alle problematiche dell'emigrazione. Per noi è una grande opportunità perché è la prima volta che possiamo avere l'opportunità di toccare con mano e di avere le persone e i funzionari del Ministero degli Esteri in modo particolare. Basti pensare tutta la rete dei consoli e degli ambassiatori che ci può dare notizie certe su problematiche che abbiamo sollevato in questi anni e che proprio una settimana fa abbiamo consegnato in una sintesi di 15 punti al Sottosegretario Silli.